Importanti novità in riferimento alla ricostruzione post-terremoto del 2016. Lo sciame sismico di sei anni fa, che iniziò nel mese di agosto e proseguì fino all'inizio del 2017, colpì duramente buona parte del centro Italia, devastando cittadine come Amatrice e Accumoli nel Lazio, Norcia e Preci in Umbria, Arquata del Tronto nelle Marche. In Genti, i danni che si registrarono anche in Abruzzo e nell'area del cratere furono inseriti 23 comuni della regione, 16 della provincia di Teramo, 6 del comprensorio Aquilano e 1 della provincia di Pescara, località per le quali sono in arrivo buone notizie. Nella giornata di ieri, infatti, il commissario della ricostruzione, Giovanni Legnini, ha annunciato l'approvazione di un significativo innalzamento della soglia dei contributi complessivamente a disposizione, che passano da 1 miliardo e 600 milioni del 2020 a 4 miliardi e 800 milioni di euro. Il sostanzioso incremento delle risorse disponibili dovrebbe consentire di velocizzare il processo di ricostruzione, recuperando il terreno perduto a causa di eventi esterni come la pandemia, la crisi energetica e le problematiche legate alla difficoltà di reperimento di aziende a causa della concorrenza innescata dal super bonus, 110%. Legnini ha diffuso anche il report aggiornato sull'andamento della ricostruzione, dal quale emerge che nel complesso, in seguito al sisma del 2016, sono stati attivati quasi 15 mila cantieri per la ricostruzione privata, di cui quasi 8 mila già conclusi. In Abruzzo i cantieri attivati sono 1.892, ma sono soltanto 880 quelli già terminati. Sempre l'Abruzzo è la regione che ha ottenuto la fetta minore dei contributi tra le quattro regioni coinvolte, circa 345 milioni di euro per 1.892 progetti approvati, con altre 1.099 richieste che sono ancora in fase di istruttoria. I comuni abruzzesi al centro del processo di ricostruzione sono Teramo, Campli, Castelcastagna, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Cronialeto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio Alvomano, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia e Valle Castellana nel Teramano, Barrete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Monte Reale e Pizzoli nell'Aquilano, e infine Farindola in provincia di Pescara.